oggi vi voglio parlare di come recuperare dei led da lampadine a led guaste c'è da dire che le lampadine a led che sono in vendita in questi ultimi anni contengono diversi tipi di led ma sono in genere tutti o seri o parallelo e c'è un circuito per bilanciare le correnti e quindi le resistenze eccetera eccetera in ogni caso partiamo da una delle tipiche lampadine normalmente in commercio a questo punto la apriremo per vedere come è fatta dentro per aprirla la mettiamo semplicemente in morsa questo è uno dei tanti metodi però si può usare anche il tronchesino si può usare una pinza o qualcos'altro l'importante è non danneggiare il contenuto all'interno io per praticità l'ho messa in morsa e ho iniziato a tagliarla con il seghetto a mano una volta che ho tagliato la parte inferiore stando bene attento a non danneggiare i led mi sono accorto che al suo interno c'era un altro involucro di alluminio che proteggeva la circuiteria non sono fatte tutte così ne ho aperte altre in passato e si accedeva direttamente alla borda dove sono saldati i led in ogni caso per per riuscire ad aprirla ed accedere al circuito ho usato un tronchesino e ho tagliato la superficie in plastica sopra ecco questo vedete il circuito come si presenta all'interno come vedete c'è una circonferenza fatta da led più dell'altra elettronica che in genere sono dei dei controllori di corrente delle resistenze eccetera eccetera a questo punto poiché il nostro obiettivo è recuperare i led del resto delle circuiterie non ci interessa a cosa importante che non ho detto prima è che per tutte le lampadine che ho smontato diciamo un buon 99 per cento quando si guastano non è mai il led che si guasta ma è sempre una parte del circuito può essere un diodo ma più in generale sono i condensatori sull'alimentazione comunque una volta aperta con un cacciavite ci aiutiamo per estrarre la parte del circuito come vedete il circuito è montato posteriormente alla piazza dove sono saldati i led ed è quello che andremo a rimuovere a questo punto o con un saldatore o semplicemente con un tronchesino togliamo tutta l'elettronica in eccesso che non ci serve che è questa che sto mostrando in figura ecco questo qua sono altre altre prove che ho fatto in passato altri smontaggi che ho fatto in passato in cui possiamo vedere che il formato dei led è differente sia come misura che come geometria eccetera eccetera ne esistono veramente una grande varietà per esempio questi sono un'altra serie di lampadine in cui vi erano tante strisce messe in parallelo in serie in ogni caso come dicevo prima col saldatore andremo a dissaldare le singole strisce o i singoli circuiti e otterremo delle strisce di led a questo punto se volete potete comunque dissaldare il singolo led se vi serve per un impiego particolare che il metodo è sempre lo stesso si scioglie lo sono saldati a stagno si scioglie lo stagno col saldatore si rimuove led nel mio caso non mi serviva primo perché dovevo farlo vedere puramente a scopo dimostrativo secondo perché l'applicazione su cui li ho usati mi andava benissimo la serie anche perché talvolta su queste serie di led è già inserita a livello di board la resistenza di limitazione della corrente e quindi fa anche comodo ah c'è da dire che l'alimentazione di questi led non è come tensione non è uguale per tutti ma varia da modello a modello in quanto appunto se una serie come in questo caso è fatta da sei led presenterà una tensione sui capi differente da un'altra fatta magari da cinque dieci eccetera eccetera a questo punto vediamo la la striscia che appunto ho rimosso che consideriamo in questo video adesso farò vedere come andare a alimentarla ho preso un classico alimentatore che avevo a disposizione a state attenti alla polarità perché naturalmente il led al più al meno quindi se invertite non si accende come possiamo vedere dando tensione a questo punto l'ho impostata su 12 volt perché era una serie di più led con già le resistenti inserite come possiamo vedere si accende fa anche una bella luce e quindi vi potrete divertire e utilizzarli per tutti i progetti che avete in mente questo è quanto lascio a voi altri esperimenti altre prove se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale grazie e alla prossima